Buongiorno a tutti, riprendiamo la nostra giornata sulla Tourist Experience Design, la nostra seconda. Ieri abbiamo introdotto il tema del turismo esperienziale, l'abbiamo visto come grande opportunità anche per sfuggire dalla trappola dei prezzi. Il turismo esperienziale è un turismo più attento, non vorrei dire di qualità in contraposizione a un turismo non di qualità, ma un turismo attento alla qualità. E quindi naturalmente dà la possibilità di apprezzare soprattutto offerte costruite su misura intorno a segmenti specifici di utenza. Abbiamo affrontato ieri il tema di scenario e oggi invece affronteremo la progettazione. Proprio perché ieri abbiamo visto i singoli elementi con cui noi lavoriamo, abbiamo parlato quindi di tanti elementi che noi utilizzeremo nella progettazione, però li abbiamo visti un pochino in ordine sparso. E quindi oggi dobbiamo rivedere, riprendere tutti questi elementi, inserirli in un framework metodologico in maniera tale che abbiamo uno strumento specifico per poter progettare l'innovazione. Abbiamo anche descritto che cos'è l'innovazione dal punto di vista turistico e abbiamo anche visto che ci sono diversi livelli di innovazione rispetto all'offerta attuale. Quindi prenderemo in riferimento, per quanto concerne la progettazione dell'innovazione, elementi legati alla propria domanda e elementi legati alla tensione competitiva. In funzione di questo stabiliremo quindi il livello di innovazione necessario che può anche contemplare il mantenimento dell'offerta così com'è, nel caso in cui la tensione competitiva sia bassa e nel caso in cui il nostro mercato è ancora non maturo e su cui possiamo ancora contare. Quindi non si innova giusto per farlo perché è un termine alla moda, perché lo dobbiamo fare, si innova quando è necessario e quando il nostro sistema di offerta non è più rispondente a quanto i mercati in questo momento stanno richiedendo. E quindi abbiamo visto diversi esempi, per esempio per quanto riguarda il turismo e no gastronomico, abbiamo visto l'Australia, abbiamo visto la Corea, abbiamo visto la Spagna, tutte destinazioni sia a livello macro sia a livello micro che stanno innovando moltissimo e che quindi ci costringono a rivedere criticamente la nostra offerta. Quindi per poter innovare l'offerta turistica abbiamo cercato un modello, mentre nell'industria ci sono quindi modelli di innovazione, nel design ci sono modelli di progettazione, non abbiamo trovato quindi un modello a livello internazionale di progettazione di esperienze turistiche e proprio per questo ne abbiamo costruito uno. Lo usiamo come framework, è un framework aperto, quindi non è un framework chiuso, quindi nel momento in cui ci saranno evoluzioni delle diverse discipline che noi abbiamo, che stiamo utilizzando appunto per l'innovazione dell'offerta turistica, noi adegueremo quindi il modello, non è un modello chiuso. Vedremo quindi come il tourist experience design sta aiutando concretamente quindi operatori e destinazioni turistiche a rivedere quindi il loro posizionamento strategico e quindi la costruzione di offerte. Allora, perché abbiamo bisogno di una metodologia? Una metodologia è strettamente necessaria per una serie di ragioni. La prima ragione è molto semplice. Fino adesso gran parte dell'innovazione turistica si è fortemente, non voglio generalizzare, ma in molti casi si è basata da intuizioni e da genio delle persone. E quindi l'intuizione è una buona cosa, la creatività è una buona cosa, ma noi abbiamo bisogno quindi di una metodologia che sia replicabile, che sia scalabile, e che sia trasportabile quindi nei diversi territori. E quindi non possiamo sempre avere il Leonardo da Vinci della situazione, quindi abbiamo bisogno di un metodo di lavoro che possa anche creare un linguaggio condiviso e che quindi dia la possibilità a operatori pubblici e privati a destinazioni di parlare la stessa lingua. Quindi l'impiego di una metodologia è fondamentale per risolvere dei problemi di progettazione. Questa progettazione non è una progettazione to cure, ma è una progettazione competitiva, che deve quindi garantire la possibilità di avere un posizionamento strategico difendibile, almeno nel medio e lungo periodo nei mercati internazionali. E quindi noi abbiamo bisogno di progettare delle offerte che siano quindi distintive. Definire quindi le esperienze di successo è un'attività complessa, che deve tenere in considerazione un insieme ampio di elementi. Sono tanti gli elementi che devono essere quindi presi in considerazione. E quindi una metodologia consente di ordinare i passi esattamente come una ricetta può aiutare le persone a preparare un piatto. E quindi da questo punto di vista la metodologia del Tourist Experience Design comprende e soprattutto fornisce un insieme di passi logici, ma anche strutturati, anche in ordine sequenziale, per arrivare al risultato innovativo, lavorando su tutti gli aspetti che concorrono alla definizione delle esperienze di un successo desiderate. Desiderate in funzione degli obiettivi, desiderate in funzione del budget e dei risorsi a disposizione. Perché evidentemente deve essere una metodologia scalabile sia per quanto concerne l'innovazione di un'offerta di un piccolo albergo o un bed and breakfast, sia a livello di una destinazione turistica, come per esempio una regione piuttosto che una destinazione nazione. E quindi da questo punto di vista deve essere quindi una metodologia strutturata e deve essere quindi una metodologia scalabile. Nel mondo quindi, come dicevo, esistono tante persone geniali, ma non è che noi possiamo sempre ricorrere alle persone geniali e pertanto nella metodologia sono previsti degli metodi strutturati di creatività. La creatività è innata in ognuno di noi. Io combatto l'idea del fatto che ci siano dei genietti creative che da una torre d'avorio riescono quindi a partorire idee, soprattutto anche considerando internet, le fonti di ispirazioni sono enormi, da cui noi possiamo quindi trarre tante indicazioni. E quindi io ritengo che chiunque può essere creativo se esercita questa sua capacità, esattamente come una persona che non era sportiva può, attraverso l'allenamento, recuperare e quindi fare sport, anche se poi naturalmente è indubbio che ci sono, come in tutti gli ambiti, dei talenti che sono nati e che comunque è difficile raggiungere. Però quello che a noi interessa non è una creatività assoluta, ma una creatività al servizio dell'innovazione turistica. E quindi i metodi che noi abbiamo studiato e che noi applichiamo sono sufficienti per gli obiettivi che ci siamo prefissi. Quindi che cosa offre quindi la metodologia nella parte creativa? Quella di suggerire un grande numero di idee innovative da cui poter fare una selezione e scegliere quelle che meglio rispondono ai requisiti di mercato. E quindi da questo punto di vista, utilizzando tecniche, modelli, discipline consolidate e innovative, possiamo fare riferimento a una metodologia che sia replicabile. E quindi la possiamo replicare con successo in un territorio, su un segmento e poi traslarla su altri territori, su altri segmenti. Ecco perché per noi è così importante il progetto pilota. E fare un progetto che sia finito dall'inizio alla fine, fino alla commercializzazione, fino alla progettazione della comunicazione, fino al presidio dei social media, in maniera tale che si riescono a vedere tutti gli elementi. Abbiamo bisogno anche di una metodologia perché questa metodologia deve essere manageriale. E quindi ci sono delle persone che progettano e ci sono delle persone invece che si occupano della parte di management. E quindi una metodologia dovrebbe dare quel raccordo tra indirizzo di tipo politico, che è giusto che ci sia, e che di solito viene fatto a livello regionale, e quindi da questo punto di vista la metodologia fornisce gli strumenti per poter dare delle indicazioni. Come nei progetti che stiamo facendo, attualmente stiamo dando indicazioni, per esempio, su base di criteri oggettivi e quindi non personali, di quali possono essere le strade da percorrere secondo le caratteristiche del territorio e secondo i mercati e secondo le possibilità competitive che la destinazione, il territorio può avere. E quindi in funzione di questo ci sono delle scelte che possono essere prese rispetto a delle altre. Quindi si forniscono degli score, per cui si dice che su questo settore hai più chance, su quest'altro settore invece ci devi lavorare di più, però naturalmente poi le scelte sono sempre di carattere politico. Una volta prese queste scelte, naturalmente occorre costruire quindi raggruppamenti, reti d'impresa, per poter arrivare a quella famosa massa critica di cui parlavamo ieri. Perché avere tante offerte interessanti, sparpagliate, non offrono nessuna possibilità di avere quindi un posizionamento. E quindi ciascuna organizzazione turistica deve essere in grado di generare innovazioni che siano differenzianti, non soltanto innovazioni to core, ma innovazioni che siano percepite dal mercato come uniche, possibilmente, o comunque come eccellenti. E quindi in maniera sistematica bisogna arrivare all'innovazione e quindi la metodologia è uno strumento manageriale in quanto trasferibile e applicabile. E quindi, essendo una metodologia manageriale, crea quindi anche un linguaggio comune. Crea quindi un linguaggio comune che può essere condiviso è utilizzato sia dal punto di vista dell'indirizzo di natura politica, sia dal punto di vista invece dell'esecuzione, quindi nella costruzione delle offerte, nella progettazione di aggregazioni tra operatori, nella costruzione di ecosistemi in cui vengono inseriti pubblici, stakeholder e soggetti in natura diversa, in funzione quindi del progetto. E quindi, essendo una metodologia trasferibile e applicabile, rende esplicite e comprensibili le logiche. Molto spesso si dice che ci siano a volte delle decisioni di cui non si capiscono quindi le logiche. E quindi l'idea di avere una metodologia significa anche di rendere trasparente le logiche con cui certe decisioni sono prese in maniera tale che le persone riescono a capire perché si è arrivati a quella decisione e quindi nel momento in cui, per esempio, una metrica viene utilizzata, può essere contestata, dico non sono d'accordo, che la metrica di mercato che hai usato sia quella corretta e allora stiamo parlando di questo e non andiamo a invilupparci in discussioni sterile dove non si arriva al punto. Quindi la metodologia serve anche per rendere il linguaggio di progettazione assolutamente preciso e le obiezioni, le discussioni, sono sempre in questo caso assolutamente motivate e circoscritte a precisi ambiti. Quindi proprio per questo motivo la metodologia è una metodologia che permette sia di lavorare sull'indirizzo sia di lavorare sulla progettazione proprio concreta e specifica delle offerte. Abbiamo bisogno poi anche di una metodologia innovativa. Perché innovativa? L'abbiamo visto ieri. Perché le esperienze invecchiano, invecchiano rapidamente. Vedremo perché invecchiano e vedremo che c'è un certo grado di obsolescenza di cui parleremo che può essere quindi una obsolescenza interna ed esterna. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo periodicamente bisogno di innovare l'offerta turistica esattamente come abbiamo bisogno di innovare l'offerta comunicativa. Ecco, l'abbiamo visto ieri che dal nostro punto di vista progettazione dell'offerta e progettazione della comunicazione non sono due elementi separati ma sono assolutamente incendibili. E quindi nel momento in cui noi progettiamo l'offerta progettiamo anche la comunicazione. Perché essendo quindi una offerta rivolta a segmenti specifici di domanda nel momento in cui hai fatto l'offerta hai fatto anche la comunicazione perché hai anche attraverso l'analisi acquisito tutti gli elementi di conoscenza che sono utili a capire come andare a comunicare quell'offerta a quello specifico pubblico. essendo quindi la progettazione non una progettazione generica ma sempre rivolta a pubblici e a segmenti di mercato molto bene definiti. E quindi vedremo che questo è un elemento che già di per sé garantisce quindi una maggiore focalizzazione e quindi già una maggiore competitività. è più facile essere competitivi quando si è specifici piuttosto che quando si è generici. E quindi quando l'offerta è generica evidentemente il prezzo diventa l'unica variabile che fa la differenza. Sulla scalabilità quindi ancora due parole la scalabilità è importante perché come vi dicevo una metodologia deve funzionare su diversi livelli e quindi qualcuno mi ha chiesto ma come è possibile tu stai facendo il piano strategico di una regione come fai a lavorare anche sul bed and breakfast? Dal punto di vista come dire metodologico non cambia niente cambia naturalmente la portata cambiano gli investimenti eccetera però dal punto di vista dei passi non c'è differenza è una metodologia che può essere applicata quindi nel piccolo piuttosto che nel grande è per questo che noi abbiamo bisogno quindi diciamo della scalabilità e quindi essendo poi il turismo un settore molto complesso c'è qualcuno che parla di industria a noi non piace parlare di industria ma piace parlare di ecosistema per noi il turismo è un ecosistema abbiamo quindi la necessità di una metodologia in maniera tale da aggregare quindi soggetti completamente diversi abbiamo visto ieri per esempio che nell'ambito per esempio amministrativo già regioni comuni province e ogni organizzazione su base territoriale è suddivisa per funzioni è divisa per funzioni in modo tale che per esempio chi si occupa di commercio e chi si occupa per esempio di cartelli stradali e chi si occupa di offerta turistica e chi si occupa di musei sono o possono essere soggetti diversi il problema è che quando noi ragioniamo in ottica esperienziale il turista non vede la differenza non dice ah sì che bello io sono arrivato fino a qua ma poi è provincia ma poi il turista avviene e dice mi è piaciuto non mi è piaciuto mi sono trovato bene non mi sono trovato bene e quindi tutto concorre all'esperienza turistica il traffico la gentilezza dei negozianti l'offerta dei ristoranti i trasporti eccetera per cui da questo punto di vista in un'ottica diciamo di progettazione sistemica tutto dovrebbe concorrere quindi a formare diciamo l'esperienza e quindi questo è un grosso diciamo problema che va diciamo affrontato e quindi bisogna favorire un certo dialogo che in qualche modo abbatta le barriere di tipo funzionale che non c'è soltanto a livello politico ma c'è anche a livello di organizzazione pensate quindi un'organizzazione turistica dove abbiamo chi si occupa della comunicazione chi si occupa quindi della della produzione eccetera eccetera e quindi da quel punto di vista ragionano ovviamente con logiche che sono quindi diverse e specifiche e quindi invece ragionare in ottica esperienziale vuol dire invece comprendere nel limite della propria specificità anche il lavoro fatto degli altri e capire quindi qual è la portata degli altri quindi dal punto di vista quindi teorico poi se poi questo succede in realtà un'altra cosa dovrebbe favorire un certo dialogo quindi tra funzioni diverse e quindi da questo punto vista essendo quindi il turismo un settore complesso in cui agiscono attori sui diversi livelli di aggregazione dei territori che organizzano l'offerta complessiva quindi dai tour operator fino ai singoli operatori dagli albergatori quello che è importante è che noi dobbiamo arrivare a una progettazione di tutti i singoli pezzi che poi devono andare a comporre lo vedremo il famoso ecosistema turistico che ancora è un'utopia perché non non ce ne sono diciamo attualmente però che nascono per esempio dall'evoluzione naturale dei club di prodotto che sono diciamo una prima forma di aggregazione che poi si trasforma in club di mercato che poi si trasformano quindi in reti di impresa e reti di reti di impresa fino ad arrivare a ecosistemi turistici e quindi il tourist and design può essere applicato con successo a ciascun livello dell'offerta turistica senza difficoltà e quindi da quel punto di vista modificando ampiezza focus e scala dell'analisi e investimenti naturalmente noi abbiamo considerato quindi l'importanza quindi di una metodologia che fosse quindi scalabile che è un elemento importante però l'elemento centrale è la ricerca della distintività e quindi molte volte molte offerte sono costruite però in ottica non distintiva e allora c'è una tendenza a volte di molti territori di costruire quindi dei cataloghi in cui ci si ficca il maggior numero di offerte possibile dicendo ma se io non ci metto questa cosa qui magari corro il rischio che non piaccia l'offerta come è l'unica cosa che io ho tolto dal catalogo ed è esattamente quella vincente lo vedete anche a volte su certi video promozionali dove dicono in 30 secondi il nostro territorio c'ha la cultura c'ha questo c'ha quello c'ha quell'altro c'ha quell'altro ma anche questo ma anche questo ma anche quell'altro e quindi da questo punto di vista innanzitutto il turista è confuso perché vede tante cose e non riesce a farsi quindi diciamo un'idea ma dall'altra parte vedendo tante cose alla fine si chiede ma perché io dovrei venire per esempio in Salento piuttosto che in altre destinazioni voi mi dite che siete una destinazione dove si fa anche un turismo verde un turismo a contatto con la natura ma qual è la differenza con l'Irlanda qual è la differenza con la Scozia qual è la differenza con la Sardegna e quindi da quel punto di vista come dire il turista di esperienze abbiamo visto ieri è un turista motivazionale è un turista che spesso antepone l'esperienza alla scelta della destinazione successivamente il turista del golf non è che dice sempre andiamo in Marocco e decide e questo poi è un problema decide di volta in volta per cui i diversi tipi di turista prendono delle decisioni in modi completamente diversi c'è quello che decide prima la destinazione c'è quello che decide prima invece la tipologia di esperienza che vuole avere c'è chi decide in funzione del budget quindi le possibilità di decisione sono non dico infinite però sono moltissimi e quindi cercare di prevederle tutte mettendo in una possibile comunicazione tutto il possibile è veletario ed è difficile perché comunque magari l'unico modo che non avete previsto è esattamente quello che invece era quello che magari avrebbe potuto funzionare e quindi a noi invece quello che interessa è focalizzarci su una promozione che sia distintiva poi non vi preoccupate una delle obiezioni che mi vengono fatte quando io lavoro su una scelta di un tema mi dicono sì e gli altri non vi preoccupate se io sto lavorando in questo momento sulla promozione del turismo attivo ma state tranquilli che quando le persone sono arrivate qua non è che tutta la parte culturale viene eliminata quindi il turista che viene sul territorio poi vedrà tutto e quindi lo porterai a assaggiare i prodotti tipici lo porterai a un'offerta quindi culturale piuttosto che tante altre cose che potrà assaporare quindi il nostro problema in questo momento non è quello di confonderlo ma di farlo arrivare una volta che è arrivato noi siamo contenti e avremo la possibilità in funzione delle sue scelte in funzione di quelli che sono i suoi desideri delle sue caratteristiche anche di con chi viene come viene che tipo di esperienza vuole avere di anche proporgli tante altre quindi tante altre offerte però è inutile costruire quindi una comunicazione che alla fine inserendo troppe cose confonde le persone nella pubblicità anche di tipo tradizionale si parlava quindi di unique selling proposition il termine oggi è un po' si è un po' modificato e non si parla più di unique selling proposition ma oggi c'è la tendenza a parlare di unique value proposition e quindi però unique value proposition vuol dire che tu riesci a generare attenzione con una o due o poche comunque cose se tu bombardi le persone con una comunicazione che contiene diciamo troppi elementi ti perdi quindi tutta l'attenzione per strada e quindi da questo punto di vista il nostro obiettivo è cercare di definire un posizionamento un posizionamento distintivo o del territorio se io lavoro a livello di territorio oppure dello specifico club di prodotto su cui sto lavorando e quindi alla fine poi il posizionamento del territorio si può anche avere come una sommatoria di tante eccellenze per cui un territorio forte culturalmente può essere forte anche dal punto di vista dell'offerta sportiva può essere anche forte dal punto di vista enogastronomica non è che sono cose diciamo in contraddizione perché anche nasce anche un po' quel paradosso della suddivisione del turismo in temi per cui c'è il turismo religioso il turismo il turismo sportivo e quant'altro è vero che ci sono delle prevalenze però noi dobbiamo anche costruire delle offerte che non siano costruite con l'accetta perché è difficile che un turista venga in un territorio solo unicamente per l'offerta enogastronomica questa rappresenta una parte minimale del turismo enogastronomico che è data quindi dai turisti che si manifestano ecco che noi dobbiamo quindi entrare nel dettaglio e quindi la metodologia diciamo differenziante ci deve consentire di arrivare a un posizionamento distintivo in maniera tale che la gente dica ah quando io penso a qual è il paradiso terrestre di infatti quando io dico qual è il paradismo terrestre dei nottamboli come abbiamo visto ieri se uno dice Ibiza allora dice ecco loro hanno avuto un buon posizionamento perché quando tu dici il paradiso terrestre qual è il paradismo terrestre del gioco d'azzardo Las Vegas Monte Carlo ecco Monte Carlo naturalmente ha cercato di differenziare adesso perché quel mondo gli stava stretto e adesso Monte Carlo ha costruito una strategia turistica molto più ampia lavorando quindi su tantissimi temi dalla talassoterapia al turismo luxury eccetera eccetera quindi a volte quindi un certo tipo di posizionamento può anche essere stretto quindi lo vedremo poi più avanti quindi nella scelta di posizionamento se è più o meno stretta o un pochino più diciamo allargata e quindi il turistica design è un framework aperto e in divenire quindi vuol dire che è semplicemente un insieme di metodi e modelli che non sono proprietari quindi quando qualcuno ci dice voi non avete inventato niente ha perfettamente ragione perché noi abbiamo mutuato da diverse discipline dal design la progettualità dall'analisi tradizionale quindi tutta la parte di analisi di mercato però che viene fatta anche con metodologie innovative come l'analisi netnografica quindi l'ascolto diciamo delle community in rete piuttosto che modelli creativi che già vengono utilizzati con grande successo nell'innovazione nel mondo diciamo dell'industria e quindi abbiamo inserito quindi tutte queste metodologie che già vengono utilizzate in maniera efficace in un unico framework che permette quindi l'integrazione di metodi modelli creativi analitici predittivi e collaborativi ok perché il tool assessment design è anche un framework collaborativo in cui non si parla di progettazione dall'alto ma è una coprogettazione poi vedremo a diversi livelli coprogettazione con i territori coprogettazione con le comunità locali coprogettazione con i turisti eccetera 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 e quindi da questo punto di vista non è quindi l'idea di un qualcuno che arriva calato dall'alto e dice da domani il tuo prodotto è questo qua e ti devi anche vestire di giallo perché abbiamo scoperto da nostra ricerca che i turisti vogliono che tu ti vesti di giallo no non è così sono quindi metodologie di coprogettazione perché oggi siamo arrivati quindi a un mondo aperto a un mondo in cui la progettazione rigida non funziona i sistemi aperti sono quelli che dal nostro punto di vista garantiscono maggiore flessibilità e maggiori quindi opportunità di evoluzione nel tempo quindi è un approccio transdisciplinare per comprendere le esigenze del nuovo viaggiatore e innovare l'offerta turistica e la relativa comunicazione metodi in site crowdsourcing open innovation quindi fatta con esperti perché esperti perché noi non possiamo quindi sapere tutto e quindi quando lavoriamo su temi molto verticali lavoriamo con esperti che possono essere esperti del tema o esperti del mercato noi quando abbiamo lavorato sulla come dire offerta per quanto concerne il mercato turistico cinese per la Toscana abbiamo suggerito di non lavorare noi sulla comunicazione abbiamo detto la comunicazione assolutamente deve essere fatta in loco da una impresa locale noi ci rifiutiamo perché non abbiamo la cultura non abbiamo la conoscenza e quindi potrebbe essere soltanto una conoscenza di seconda mano quindi a questo punto di vista esperti che devono essere di mercato di specifici mercati esperti di temi esperti di tutte le discipline che servono diciamo a supporto infatti noi ci reputiamo quindi degli architetti se vogliamo esattamente come nel caso appunto delle costruzioni noi siamo architetti che mettiamo insieme poi diverse competenze in maniera tale da costruire l'edificio che in questo caso è dato dalla competitività quindi esperti operatori dell'offerta culturale dell'offerta turistica le comunità ospitanti gli innovatori i creativi eccetera e quindi tanti soggetti diversi che non sempre parlano e colloquiano fra di loro anche e soprattutto perché parlano lingue diverse e quindi noi dobbiamo fare anche un po' da tramite come dire non come dire non è il nostro compito però ogni tanto dobbiamo lavorare come mediatori culturali cercando quindi di prendere come dire linguaggi o richieste espresse in un determinato linguaggio e tradurle in un altro modo in maniera tale che sia comprensibile a pubblici che non parlano quindi lo stesso linguaggio quindi alla fine però che cosa ci serve perché serve una metodologia abbiamo visto dal punto di vista diciamo di un territorio però dal punto di vista invece competitiva di mercato la metodologia dei tools e spend design serve per conoscere il cliente in profondità per servirlo e quindi oggi i mercati sono molto specialistici sono molto richiedono quindi una grande competenza pensate quindi servire quindi i golfisti pensate servire quelli che fanno la pesca pesca d'altura sono quindi grandi esperti ti dicono ti dicono esattamente dove vogliono pescare con quale tipo di imbarcazione a che ora esattamente vogliono uscire quali sono le giornate in cui le sanno più di te e quindi se non riesci o non sei competente su quel settore non riesci quindi a quindi a soddisfare quei tipi di clienti e allora ci sono due possibilità o noi ci specializziamo e facciamo una scelta di specializzazione cosa che è possibile che molti operatori hanno deciso di fare tanto è vero che per esempio anche qua in Puglia molti operatori che fanno un'offerta di trekking o di cicloturismo sono persone che già di passione praticano loro questo tipo di diciamo di attività e quindi conoscono quindi tutte le esigenze però il discorso è questo noi come progettisti non possiamo quindi lavorare così perché quanti campi possiamo approfondire noi abbiamo bisogno di una metodologia che ci consente di entrare da un settore all'altro in termini di progettazione e quindi non è che io devo fare tutta una vita di analisi per entrare a costruire quindi diciamo un'offerta io ho bisogno quindi di poter garantire una metodologia che consenta di analizzare il mercato non diventando necessariamente quindi esperto di quel specifico settore ma avendo almeno degli elementi di base che mi consentono di progettare un'offerta che poi io raffino con gli esperti tematici però io ho bisogno quindi di sporcarmi le mani non posso delegare completamente all'esperto tematico mi si è staccato la coffia e quindi non posso quindi delegare tutto all'esperto tematico devo avere un minimo di conoscenza degli elementi di cui sto parlando e quindi devo avere anche gli strumenti per poter imparare velocemente quali sono i fondamentali di ogni specifico ambito turistico ogni specifico ambito turistico quindi conoscere il cliente in profondità per servirlo cogliere le opportunità offerte dalla segmentazione e quindi la segmentazione diventa sempre più importante ma la segmentazione di tipo tradizionale invece comincia a scricchiolare e quindi segmentazione per geografica segmentazione di tipo socio-demografico psicografico e quant'altro hanno bisogno di essere affiancati a invece altri ad altri modelli che contemplino comunque la segmentazione come esercizio ma utilizzando basi di segmentazione come vedremo dopo nel dettaglio molto più approfondite dobbiamo poi lavorare come abbiamo visto ieri sull'esperienza estesa perché abbiamo visto che l'esperienza non comincia nel momento in cui il turista arriva sul territorio ma comincia molto prima l'esperienza inizia nel momento in cui la persona ha deciso di fare un viaggio nel momento in cui dice ho voglia di viaggiare e in quel momento inizia l'esperienza per cui l'esperienza l'abbiamo visto molto bene ieri comincia con la costruzione dell'immaginario e finisce con le strategie di memorabilità quindi noi dobbiamo lavorare su tutto il ciclo di esperienza in maniera tale da accompagnare il viaggiatore o il segmento di viaggiatori nell'esperienza ovviamente come dire siamo anche di parte quindi cerchiamo di orientare quindi le scelte facendo in modo che scelgano questi viaggiatori o il viaggiatore la nostra offerta rispetto quindi ad altre non è quindi una missione come dire benefica stiamo comunque posizionando stiamo facendo quindi un lavoro di marketing non ce lo dimentichiamo e quindi costruiamo un'esperienza ma noi in fin dei conti dobbiamo vendere un prodotto un'offerta turistica un'esperienza turistica e quindi questo è il nostro obiettivo dichiarato e quindi a cui noi non possiamo sottrarci dobbiamo poi allargare e approfondire l'offerta turistica soprattutto comprendendo quali sono i driver rilevanti per la motivazione perché noi spesso aggiungiamo degli elementi che se non sono fortemente motivanti rappresentano soltanto una voce di costo vi faccio l'esempio banale che facciamo sempre che è il cioccolatino sul cuscino il cioccolatino sul cuscino inizialmente da chi l'ha proposto albergatore era un pensiero carino successivamente hanno iniziato a farlo tutti e quindi alla fine cioccolatino 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 diventa una voce di costo che però non differenzia l'offerta e quindi da questo punto di vista molti che lo offrivano l'hanno tolto e quindi noi dobbiamo concentrarci sugli elementi dell'esperienza che sono rilevanti e che sono quindi apprezzati perché tutto il resto non è apprezzato recentemente ho avuto un colloquio con un albergatore un albergatore che mi ha mostrato un sacco di cose che stava organizzando pensa abbiamo fatto una una centrale totalmente ecologica per cui il riscaldamento è assolutamente ecologico e quindi è fenomenale mi ha portato anche a visitare la centrale io adesso voglio portare i turisti a vedere quanto è bella la mia centrale diciamo di riscaldamento mi sono voltato e ho detto scusa ma la tua colazione non è green usa prodotti industriali allora lo fai e così via quindi sì ma noi abbiamo un'offerta culturale però era metà però poi abbiamo anche un'offerta enogastronomica era metà eccetera e quindi qual era il risultato il risultato era che non era né carne né pesce quindi fondamentalmente non aveva nessuna qualità perché non si era concentrato invece su quello che era l'elemento centrale dell'esperienza e quella per cui l'utente è disposto a pagare quindi uno dice bene bello bello che ci sia questa cosa tra l'altro al mattino c'era la colazione con la musica tanti elementi molto interessanti però incompleti e quindi alla fine questo si traduce in un nice to have non un need to have e quindi il nice to have significa che le persone vanno su trip advisor dicono ah che bello mi sono trovato bene c'è stato questo 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 quest'altro e poi quando si tratta invece di aumentare di un euro il prezzo ah no perché il mercato non te lo riconosce è bello se c'è però se anche non c'è sto benissimo lo stesso e quindi da quel punto di vista per me è importante capire qual è l'elemento centrale su cui veramente quella tipologia di turista è veramente interessato e su cui è disposto anche a pagare un euro in più due euro in più eccetera perché è come dire l'elemento come dire motivazionale e in cui naturalmente di quel tipo di offerta la variabile prezzo è importante ma non è al primo posto ma non da ultimo lavorare sull'esperienza vuol dire definire gli elementi per progettare la comunicazione una comunicazione offline e online orientata quindi agli utenti e quindi da questo punto di vista migliorare le strategie di promozione turistica io ho visto che tante strategie di promozione turistica sono generali indistinte e soprattutto non rilevanti e non differenzianti ho visto per esempio senza fare nomi alcune campagne dove se io sostituissi quella foto un'altra foto di una destinazione funzionerebbe lo stesso e voi non ve ne accorgete e quindi il tour experience design deve lavorare anche sulla strategia quindi di comunicazione tanto è vero che noi poi abbiamo sviluppato altri modelli legati per esempio al content marketing l'utilizzo di contenuti ai social media marketing e alla pianificazione media e quant'altro rivista in chiave esperienziale che per esempio che noi abbiamo raccolto su quello che chiamiamo il cappello per esempio social media experience che è quindi non tanto una progettazione orientata agli oggetti ma orientata invece alle esperienze quindi è una metodologia che dal punto di vista come dire descrittivo è molto semplice è una metodologia in cinque fasi non in cinquanta fasi che poi non si capiscono in cinque fasi poi naturalmente è evidente l'abbiamo pubblicata in un libro edito da Hoepley che si chiama Creare offerte turistiche vincenti col tour experience design è evidente che sono cinque fasi però sono cinque fasi dense e poi ogni singola fase dovrebbe essere comunque analizzata nel dettaglio perché racchiude quindi altre metodologie soltanto la parte di creatività la parte di etnografia quindi sono quindi meritano quindi un approfondimento diciamo ad hoc però queste cinque fasi sono quelle minime indispensabili dal nostro punto di vista necessarie per arrivare a una progettazione coerente dell'offerta le vedremo nel dettaglio la prima fase riguarda l'analisi competitiva degli elementi unici e distintivi della proposta di valore ok? quindi io mi devo focalizzare su ciò che realmente sono i miei punti di forza in cosa che però uno dice lo faccio però in funzione di cosa? non in assoluto ma in funzione dei segmenti di mercato con cui io voglio costruire quindi relazioni e quindi in funzione dei segmenti i miei punti di forza cambiano completamente e quindi io posso essere competitivo in generale per un certo tipo di offerta e non per un'altra ma posso essere competitivo su un segmento e non su un altro ma posso essere competitivo su un mercato e non su un altro e quindi da quel punto di vista l'analisi competitiva è sempre relativa può essere un'analisi competitiva di mercato quindi siamo competitivi per il mercato tedesco ci sono abbastanza persone che parlano il tedesco conosciamo quindi le esigenze del mercato tedesco eccetera oppure posso essere quindi competitivo per un'offerta di turismo green eccetera e quindi cambia di volta in volta e quindi io devo di volta in volta in funzione di quello che è la mia analisi capire quali sono gli elementi distintivi e per fare questa analisi ci sono quindi degli strumenti metodologici precisi il secondo elemento importante l'abbiamo stressato più volte è la segmentazione la segmentazione è importante per arrivare a costruire offerte che siano rilevanti oggi le persone vogliono offerte rilevanti nel turismo come nei programmi televisivi io non voglio più guardare un programma generico se sono interessato a una programmazione di film gialli esistono dei canali tematici che fanno solo quello se sono interessato ai cartoni animati eccetera e quindi da questo punto di vista accanto al turista tradizionale che vuole rilassarsi che vuole vedere e fare sightseeing ci sono un insieme di tantissimi segmenti turistici in crescita che hanno delle motivazioni specifiche e quindi che vogliono fare il viaggio per ragioni molto specifiche e che scelgono la offerta turistica in funzione di quelle loro motivazioni che andremo a vedere che sono tantissime motivazioni su segmenti tradizionali ma anche su segmenti nuovi ok le andremo quindi ad analizzare e il terzo elemento quindi è la definizione delle strategie esperienziali e quindi bene come costruisco quindi una strategia di esperienza per quel segmento e quindi l'elemento centrale è il concept esperienziale la progettazione di un concept che permetta di ottenere a me operatore turistico o territoriale un posizionamento distintivo e al turista di vivere quell'esperienza che lui vuole vivere e per cui è disposto quindi a pagare quindi a pagarne quindi diciamo il prezzo relativamente quindi a tale offerta una volta che noi abbiamo definito le strategie esperienziali e quello che gli americani chiamano gli elementi wow cosa sono gli elementi wow sono questi elementi che fanno la differenza ok non il cioccolatino il cioccolatino non è un elemento wow è un elemento carino e quindi l'elemento wow è quello per cui io riconosco quindi la differenza una volta che io ho costruito il concept lo devo declinare all'interno del ciclo di vita di esperienza estesa del turista prima del viaggio durante il viaggio e dopo il viaggio e quindi devo organizzare il sistema informativo e quindi devo organizzare i contenuti devo organizzare le immagini devo organizzare quindi le modalità di comunicazione devo organizzare quindi le relazioni attraverso social network e devo organizzare tutte quelle informazioni che servono a orientare il turista nel prendere le sue decisioni devo poi migliorare la sua esperienza in loco e ci sono diverse possibilità di farlo anche utilizzando le tecnologie e quindi le tecnologie anche mobile consentono quindi di migliorare l'esperienza ma non soltanto mi consentono di organizzare meglio i servizi mi consentono di organizzare il customer care mi consentono di organizzare quindi la risoluzione dei problemi eccetera eccetera e poi l'ultimo punto è un punto di dettaglio lo cito ma non lo approfondiremo perché non posso approfondirli tutti è la progettazione di tutti i punti esperienziali i punti esperienziali come vedremo sono gli elementi con cui il turista viene in contatto un sito web è un punto esperienziale però anche la stazione dei pullman è un punto esperienziale l'albergo è un punto esperienziale i ristoranti sono un punto esperienziale e quindi da quel punto di vista io non faccio distinzione quindi tra comunicazione oggetti quant'altro per me tutti sono punti esperienziali punti esperienziali sono quei punti dove il turista entra in contatto con la destinazione o con altri turisti che parlano della destinazione e quindi io li devo progettare tutti devo progettare i social media devo progettare il sito devo progettare l'accoglienza eccetera eccetera tutti questi punti sono quindi progettati in grande dettaglio e vi farò vedere poi degli schemi di flusso diciamo di progettazione bene rivediamo quindi un recap delle cinque fasi che poi oggi cominciamo a affrontare analisi competitivi degli elementi unici distintivi della proposta di valore abbiamo detto che la prima fase della metodologia consiste sia nell'analisi dell'offerta della vocazione turistica sia nel benchmark della concorrenza questa concorrenza naturalmente come abbiamo visto cambia di volta in volta in funzione quindi dei riferimenti non è non è una concorrenza territoriale non è la Toscana è in competizione con l'Umbria o la Puglia è in competizione con la Calabria ma in funzione dello specifico mercato cambia di volta in volta lo scenario e quindi dobbiamo quindi analizzare di volta in volta che cosa intendiamo per concorrenza e che cosa intendiamo quindi per ciò che concorre a formare l'offerta turistica e quindi questa analisi è importante perché ci fornisce le chiavi di lettura delle diverse offerte turistiche suggerendo quindi i temi i temi di offerta che non sono ancora il concept e le modalità di contestualizzazione ok i temi di offerta naturalmente non sono il concept per esempio il tema di offerta balneare il tema di offerta sportiva il tema di offerta green non sono ancora il concept sono semplicemente quindi quello che poi qualcuno chiama le pratiche o noi li chiamiamo i temi poi l'importante è capirsi poi stiamo parlando della stessa della stessa cosa per quanto concerne la segmentazione l'ho già detto l'esperienza e e questo l'abbiamo detto più volte ieri l'esperienza è una percezione l'esperienza è personale e quindi io non posso e non voglio e rinuncio a quindi alla definizione di ciò che può essere considerato esperienza ecco che proprio per questo motivo mi distacco da tutti gli analisti dei primi anni del 2000 che cercavano di definire degli elementi di esperienza però su cui oltre a un certo livello di generalizzazione non si può andare perché ciò che è da considerare sia esperienza dipende da segmento a segmento e allora superiamo anche la logica unitaria non esiste un'esperienza che vada bene per una sola persona in generale per quanto estrosa per quanto strana sia questa esperienza c'è almeno un certo gruppo e quindi noi parliamo quindi di segmenti esperienziali che sono quindi caratterizzati dalla ricerca della medesima esperienza evidentemente quando noi parleremo di gruppi esperienziali dovremmo come abbiamo visto ieri fare riferimento una massa critica non possiamo quindi avere essere leader di un segmento esperienziale che ha soltanto 15 persone nel mondo e quindi dobbiamo a priori capire qual è la portata del nostro segmento e quindi in funzione della scala noi decidiamo quindi il livello di granularità che ci interessa se io sono un proprietario di un albergo che ha 15 stanze posso benissimo lavorare su un'iper segmentazione che non è un problema esaurito le 15 stanze sono contento e quindi posso essere leader mondiale su una nicchia anche iper minuscola proprio però se io sto lavorando a livello di una destinazione evidentemente il livello di segmentazione non può raggiungere quindi livelli di dettaglio oltre a una certa misura e quindi poi naturalmente la scala degli operatori influenza quindi il livello diciamo di dettaglio ma non influenza invece la scelta quindi del segmento e i criteri con cui io ho evidenziato l'importanza di quel segmento quindi da questo punto di vista la seconda fase della metodologia focalizzata sulla segmentazione innovativa del mercato turistico in termini di maggiore risposta alle nuove motivazioni dei turisti ci sono delle motivazioni di tipo classico che ci sono sempre state ma emergono anche attraverso l'analisi della rete nuove forme di turismo i nuovi turismi di cui si parla tanto è vero che nascono adesso anche diversi studi e pubblicazioni di libri di quelli che sono quindi i nuovi turismi dal turismo dark eccetera eccetera e ad altri turismi che vedremo e che analizzeremo il terzo elemento che noi abbiamo visto riguarda quindi la definizione delle strategie esperienziali per i segmenti e gli elementi wow quindi sulla base delle conoscenze sull'offerta attuale e sulla concorrenza grazie alle nuove informazioni ottenute sui bisogni esperienziali sui segmenti che noi abbiamo identificato analizzato in profondità e appunto nella fase di rivalutazione della segmentazione in questa terza fase definiamo le strategie di base per ottenere esperienze che siano significative e memorabili poi abbiamo visto che questi due concetti sono un po' in competizione fra di loro e quindi dovremo trovare il giusto equilibrio sulla base di questo dobbiamo definire gli elementi wow ovvero gli elementi di differenziazione specifica sull'offerta che generano stupore soddisfazione e che mi permettono poi di costruire quindi servizi e lo storytelling una volta che io ho definito insieme quindi al gruppo di lavoro la strategia esperienziale la decliniamo sui punti esperienziali e sul ciclo di vita dell'esperienza prima durante e dopo e quindi l'abbiamo visto che l'esperienza turistica inizia prima ecco perché per motivi semplicemente progettuali poi la nostra non è una scelta di tipo come dire analitico didattico volto quindi alla comprensione teorica e per facilità noi abbiamo suddiviso esattamente come già in letteratura molti facevano quindi anche questa non è stata una nostra invenzione distinto tra pre-experience in experience e post-experience semplicemente per progettare meglio in maniera tale da entrare quindi diciamo nel dettaglio è una semplificazione quando si parla quindi di progettazione certi assunti devono essere presi come dati di fatto e che quindi consentono quindi di semplificare perché altrimenti se lavoriamo su una realtà troppo complessa a troppi variabili poi alla fine non riusciamo a progettare e quindi alcune semplificazioni quindi da questo punto di vista sono strettamente necessarie l'ultima fase riguarda dunque la quarta fase non l'ultima riguarda quindi la definizione del ciclo di esperienze estese dei punti esperienziali che diciamo abbiamo visto e infine nella quinta e ultima fase progettiamo nel dettaglio tutti i punti esperienziali di cui abbiamo parlato per naturalmente i segmenti selezionati l'obiettivo della progettazione di dettaglio dei punti esperienziali è di analizzare in profondità le singole attività che sia il turista sia l'organizzazione turistica compiono declinando su di essi le modalità strategiche esperienziali definite nelle fasi precedenti perché noi facciamo questo? perché se tu cominci a mettere tutto su un foglio a un certo punto il foglio non basta e diciamo diventa complicato e allora cominci a usare il pavimento e non basta e diventa complicato allora devi allora proprio per questo motivo tu dici io costruisco il consente esperienziale poi in un foglio definisco tutti i punti esperienziali e poi ne prendo uno per uno e poi li progetto uno per uno in maniera tale che semplifico quindi il problema spaccandolo in sottoproblemi più semplici e questo ci consente quindi di progettare con maggiore facilità bene la prima fase della metodologia riguarda quindi l'analisi competitiva degli elementi unici e distintivi questa è una fase molto delicata è una fase diciamo che richiede grande attenzione quindi abbiamo detto analisi dell'offerta della vocazione turistica e benchmark della concorrenza con lo scopo di evidenziare gli elementi unici e distintivi su cui lavorare per poter estrarre chiavi di lettura perché vi ricordate che è la chiave di lettura che garantisce l'esperienza l'esperienza non c'è se tu non hai una chiave di lettura è la chiave di lettura che rende quell'esperienza significativa per quel pubblico piuttosto che all'altro io per esempio un giorno ero sul treno era seduto vicino a me uno dei campioni mondiali di rugby e tutti peccato che io non seguo il rugby e quindi non mi interessa rugby e quindi per me questa persona era un viaggiatore come tanti altri ok magari mi siederò un giorno sul treno con un'altra persona che per me è importante dal punto di vista diciamo del riferimento pensate avere magari Pine e Gilmore da una parte e dico wow voi siete Pine e Gilmore siete quelli che avete scritto per prime sull'esperienza e con la meraviglia di tutti gli altri dicono ma chi sono chi li ha mai sentiti nominare quindi ciò che è significativo naturalmente è veramente relativo quindi il lavoro diciamo di analisi non è un'analisi to cure abbiamo la chiesetta e quindi fare il censimento di tutto quello che noi abbiamo perché non è quello il punto e la revisione di tutto quello che abbiamo in ottica di trasformazione in esperienza e quindi questo passaggio richiede quindi un ulteriore processo quindi di elaborazione per le offerte complesse quale ad esempio quelle dei territori l'analisi competitiva dell'offerta turistica viene quindi naturalmente sviluppata partendo dai diversi elementi di offerta che sono stati identificati questi elementi di offerta identificati sono messi in ordine di priorità e si stabilisce quindi una metodologia condivisa per cui si costruisce uno scoring ok questo score non è anche lì un elemento universale va concordato va negoziato di volta in volta in funzione dei progetti perché per qualcuno ci sono degli elementi come dire imprescindibili allora dici no io lo voglio fare questa cosa qua per me è importante perché è importante dal punto di vista del nostro DNA lo vogliamo fare comunque non ci interessa se anche ci saranno pochi pochi turisti ma questa cosa è una cosa che ci contraddistingue quindi bisogna valutare che cos'è importante mettendo dei parametri e dei pesi che vengono quindi valutati assolutamente di volta in volta non è mai un metodo che si può applicare diciamo to cure in base a diversi elementi di offerta identificati infatti il territorio non compete su un'unica offerta ma su un insieme di offerte turistiche aggregate quindi nel brand ombrello e quindi da quel punto di vista lì bisogna lavorare o su una coerenza di posizionamento ex-ante laddove non c'è oppure costruirla ex post considerando quello che è l'esistente e quindi costruisci come diceva Steve Jobs la connessione dei punti per cui non sempre tu hai delle cose che sono diverse e quindi devi trovare un punto di collegamento di tutti gli elementi che hai che poi costruisci in maniera tale da identificare l'identità distintiva dell'offerta competitiva di quel territorio e quindi prendiamo per esempio il caso dell'Umbria l'Umbria ha quindi una sua identità identità precisa ma questa sua identità è anche composta di tanti elementi diciamo di offerta che sono diversi tra di loro abbiamo quindi l'offerta di bike in Umbria l'abbiamo vista anche ieri e quindi lì il problema è che dobbiamo lavorare su due livelli il primo livello è un posizionamento dell'Umbria nell'immaginario turistico sui mercati però l'Umbria è parte anche dell'Italia e quindi a quel punto di vista bisogna quindi verificare qual è il livello su cui noi possiamo quindi diciamo competere perché uno dei grossi problemi che ha portato quindi anche la frammentazione delle azioni di promozione turistica è il fatto che addirittura non faccio nomi c'è qualcuno che si candida a come dire a progetti internazionali in competizione tra di loro senza mettersi d'accordo e quindi ogni come dire ogni piccola frecciatina quindi ogni riferimento è puramente voluto e quindi io dico sempre mettetevi d'accordo perché da quel punto di vista bisogna anche vedere quali sono le possibilità competitive e quindi non ce la può fare quindi il piccolo territorio che va alla fiera internazionale e quindi da quel punto di vista anche le specificità di una regione devono essere inserite in un contesto nazionale quindi bisogna anche verificare quali sono gli elementi di peculiarità però senza rinunciare a quella che è l'efficacia della promozione perché pensate quindi la confusione la confusione diciamo degli operatori turistici pensate se voi invece guardatela dall'altra parte invece di andare a vedere un'offerta degli Stati Uniti andate in una fiera e vi trovate l'offerta del Wyoming l'offerta dell'Ohio l'offerta del Connecticut diventate pazzi e allora da quel punto di vista perché noi dovremmo arrivare quindi all'offerta del sottoterritorio eccetera quindi dobbiamo nella nostra analisi cercare di capire alcune specificità importanti ma anche mettere insieme quindi la significatività dell'offerta e quindi da questo punto di vista l'aggregazione è fondamentale l'aggregazione sia su scala locale ma sia anche su scala nazionale perché questa diciamo lo dico senza voler fare polemiche ma questa frammentazione non ci sta facendo bene non ci sta portando da nessuna parte e in altri paesi invece riescono a fare l'offerta turistica e non gastronomica parlo dell'Australia perché sono tutti andando nella stessa direzione Ibiza l'avete visto ieri è forte perché è compatta ok quindi da questo punto di vista abbiamo ho fatto una regione a caso però può valere per tutte abbiamo quindi l'Umbria ma che ha un'offerta di biking sviluppata però noi dobbiamo costruire un'offerta di biking dell'Umbria e che quindi deve essere distintiva abbiamo un'offerta delle vie di San Francesco però le vie di San Francesco entrano nella competizione turistica globale ok e quindi da quel punto vista devono essere considerate ci sono i congressi e da questo punto di vista anche i congressi hanno delle dinamiche specifiche eccetera quindi ci vuole quindi una coerenza tra il brand ombrello un lavoro che per esempio è stato compiuto con grande determinazione e successo dall'Alto Adige che ha ridotto quindi elementi diciamo non necessari e ha lavorato molto bene sia sul livello di costruzione di un brand diciamo territoriale che non riguarda soltanto il turismo ma che riguarda anche i prodotti e bisogna naturalmente lavorare quindi sulle singole linee diciamo di offerta parliamo pure in questo momento in prima approssimazione di club di prodotto club di club di mercato e quant'altro e quindi queste offerte vanno quindi razionalizzate raggruppate rese quindi omogenee per poi arrivare alla costruzione poi di esperienze composite che combinano diciamo questi primi livelli diciamo di aggregazione club di prodotto è il livello basico è il primo livello di aggregazione oggi sulla diciamo sull'offerta quali sono quindi i punti di valore la consapevolezza dei propri punti di valore essenziale per cogliere le opportunità turistiche della propria offerta bisogna porre attenzione a non focalizzarsi unicamente sulle peculiarità dell'offerta che risultano evidenti a un'indagine superficiale e affrettata e quindi la parte diciamo analitica è una parte importante pensate quindi a molti bandi dove vengono inseriti nello stesso bando l'analisi la progettazione l'offerta turistica la comunicazione e quant'altro che non ti permette poi di dare la dovuta attenzione alla parte progettuale la parte progettuale è l'ossatura della diciamo della strategia e molti considerano come un'attività accessoria un'attività diciamo inutile però è un'attività come di preparazione atletica senza la preparazione atletica non puoi comunque diciamo competere ma non bisogna fare quindi attenzione a non focalizzarsi solo sulle peculiarità dell'offerta che risultano evidenti a un'indagine come dire superficiale e affrettata e poi naturalmente in base diciamo a questa analisi bisogna lavorare poi sugli elementi distintivi in termini diciamo progettuali come abbiamo visto quali sono quindi i punti di valore io vengo da Milano e quindi vedo quali sono per esempio i punti di valore di Milano il Duomo lo Grazie a tutti.